Un Consiglio regionale che lavora, che risparmia a favore del territorio e delle imprese, che inaugura una nuova stagione di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Il Presidente Lorenzo Sospiri apre con ottimismo il nuovo anno dei lavori dell'Assemblea Legislativa abruzzese e guarda al 2019 con soddisfazione per la buona qualità dell'attività svolta, sia a livello normativo che nella realizzazione di interventi concreti a servizio dei cittadini. L'occasione per un resoconto del primo anno di legislatura è stata il tradizionale appuntamento con i giornalisti e che si è tenuto questa mattina all'emiciclo. Abbiamo colto tanti obiettivi importanti, voglio ricordare che finalmente questa regione si è dotata del garante per i detenuti, finalmente ha una commissione pari opportunità rinnovata, presto avrà il garante per l'infanzia e è stato il Consiglio che comunque ha risparmiato tanti soldi che abbiamo utilizzato per facilitare le graduatorie del sostegno alle attività commerciali del cratere 2016-2017. Abbiamo approvato una finanziaria estremamente positiva a mio avviso, equilibrata, solida, con grande copertura e in tempo utile per avere una programmazione annualità 2020. Mi pare che il Consiglio regionale abbia avuto un certo stile. Ovviamente molto è da migliorare, molto devo migliorare io, molto dobbiamo migliorare con la produzione legislativa, però mi pare che il Consiglio regionale dell'Abruzzo in Italia abbia un ruolo riconosciuto.